Parco Hotel è uno dei più prestigiosi alberghi a tre stelle di Como, moderno, completamente rinnovato, adatto sia al turista che all'uomo d'affari. Vi offrirà un soggiorno piacevole in un ambiente curato e accogliente. L'hotel è situato in centro, in un contesto di pregio, a due passi dall'area storico monumentale e dello shopping e comodo alla stazione centrale San Giovanni. Il Parco Hotel dispone di 41 camere, 8 singole e 33 doppie, alcune delle quali possono su richiesta diventare triple e quadruple. Le camere sono spaziose, tranquille e ben arredate, dotate di un comfort. Dispongono di radio, tv satellitare, telefono, wifi, cassaforte e aria condizionata. L'albergo dispone di un parcheggio privato e si trova vicino a un comodo parcheggio pubblico. Dispone inoltre di un'ampia sala per la prima colazione buffet, di confortevoli spazi relax e di una graziosa saletta di lettura dove trascorrere piacevoli momenti di riposo. Il Parco Hotel, aperto da marzo o novembre, è un attrezzato hotel per bambini, inoltre sono messi animali di piccola taglia.